Referendum sì e referendum no. Si fa sempre più aspro la battaglia tra governo e oppositori sulla scelta che gli italiani saranno chiamati a fare sulle modifiche alla Costituzione. Obiettivo informare delle conseguenze di una scelta che potrebbe cambiare, secondo alcuni, gli equilibri del potere e della democrazia. Combinato disposto tra il riforma della Costituzione e della legge elettorale, comporta da un lato un meccanismo di nomina della quasi totalità dei parlamentari e dall'altro lato comporta il pieno controllo del partito di maggioranza sul Parlamento e infine una sostanziale emarginazione delle minoranze. Si può dire che non si tratta di una riforma costituzionale ma di una nuova Costituzione che sostituisce la vecchia. Al contrario il Presidente del Consiglio ha, anche qui dimostrando una scarsa sensibilità costituzionale che è imperdonabile in un uomo di governo, tenta di spostare il quesito dal no al sì alla nuova Costituzione al no al sì a Matteo Renzi.